Corso corto, 89 a 4, uno strappo in partenza dove ognuno comincia a prendere il suo posto che è il col di paste, non è una salita durissima, è accessibile a tutti, la faccio ancora anch'io, quindi poi c'è il collegallo che lì vengono definite le posizioni di chi può essere da podio o chi rimane un po' indietro, per finire poi con il Servino, devo dire che tutta una zona che è anche sotto un profilo panoramico è molto bella per uno che viene da fuori, si corre molto in mezzo al verde, quindi direi che vale la pena esserci e provare a farla in un certo modo.